Cazzo, mi mancano quei tempi. Off County è finita all'interno e tu pensi ai tagli di capelli? È quello che ti manca? Sì, ho capito. Tutto quello che vuoi, ma se vuoi guidare una setta, devi avere l'aspetto giusto. Ho un sello di un colore... ...che so, tipo viola. Mi daresti una mano? Sì, di testa rasata come un belato. Non puoi essere un incrocio tra un hipster e un cantante country. Potrei giocare tutto il giorno. Sì, vero? Ehi, mi faresti un favore? Sei stato in gamba a togliere questo posto dalle mani dell'assetta. La mia squadra ha provato a difendere l'office. I miei amici sono scomparsi, trova... Ehi là! L'assetta dovrà andare da un'altra parte a sistemare i suoi veicoli da viettivo. L'assetta dovrà andare da un'altra parte a sistemare i suoi veicoli da viettivo. L'assetta dovrà essere un'altra parte a sistemare i suoi veicoli da viettivo. L'assetta dovrà fare i suoi veicoli da viettivo. L'assetta dovrà andare da un'altra parte a sistemare i suoi veicoli da viettivo. Devo ringraziare la mia buona stella. John ha una mente particolare, riesumata da qualche serial killer, ma particolare. Che grande cosa che hai fatto, Paul Sand. Sarebbe una giornata stupenda se non fosse per gli edeliti. Porca troia! Quell'orso è incazzato! Sarebbe una giornata stupenda.